Tempi duri per Windows. Si moltiplicano i passi falsi di Microsoft con gli aggiornamenti che si stanno trasformando in un incubo per i suoi utenti anche solo nei primi mesi dell'anno. Elon Musk aggiunge benzina sul fuoco mentre crescono i malumori per il rinvio di Windows 12 e per le novità di Windows 11 24 H2. Ma a tutto questo c'è soluzione. Molti utenti di Windows hanno imparato a proprie spese a conoscere molte stringhe identificative degli aggiornamenti del loro sistema operativo e a incrociare le dita quando li scaricano e applicano, come KB5001716. Ed ieri, 7 marzo, la notizia relativa a questo aggiornamento per Windows 10 che sta tempestando di errori quei poveri utenti che, finora, di passare a Windows 11 proprio non ne hanno voluto sapere. Oppure non lo hanno potuto fare perché il loro PC, anche se recente e dalle caratteristiche più che dignitose, non lo permette. Nelle intenzioni di Microsoft questo aggiornamento dovrebbe rendere più efficiente ed intelligente il rilascio di aggiornamenti per Windows 10. La pagina di supporto ufficiale dell'aggiornamento sotto problemi noti cita il fatto che non ve ne sia alcuno. Ma, ironia della sorte, gli utenti ricevono notifica di un errore persino nei casi in cui l'installazione di questo aggiornamento vada a buon fine. Nella migliore delle ipotesi, la soluzione proposta da Microsoft consiste nel disinstallare l'aggiornamento problematico, come in questo caso. Spesso però si deve attendere la segnalazione di un cosiddetto fix per poterlo risolvere. Si potrebbe dire che, essendo Windows il sistema operativo più utilizzato al mondo, ci sta che alcuni passi falsi possano avere luogo. Se non fosse che gli utenti di Windows si sono purtroppo abituati a sperimentare sulla loro pelle o a leggere notizie di eventi simili di continuo. Esempi? Basta andare indietro di poco più di un paio di settimane. 13 febbraio 2024. L'aggiornamento KB5034765 per Windows 11. Si blocca al 96% quindi arriva il messaggio qualcosa non è andato come previsto. Non c'è bisogno di preoccuparsi, le modifiche saranno annullate. Per favore tieni il computer acceso. Crash di Esplora File, sparizione della barra di applicazioni dopo il login. Alcuni problemi di questo aggiornamento hanno generato una schermata blu per un bug nei driver del wifi Intel. Altre due settimane indietro. 31 gennaio. KB5034204. Blocco e interruzione dell'installazione con il sistema operativo che riporta il codice di errore 8x800700D. BitLocker. Ancora due settimane indietro. 11 gennaio. KB50344441. Non si installa con errore 0x80070643. L'aggiornamento, rilasciato per risolvere una vulnerabilità identificata come CVE202420666 al suo sistema di cifratura dati BitLocker finisce con il causare più danni che benefici. Perché Microsoft, in attesa di rilasciare una soluzione, suggerisce agli utenti impazienti di modificare e ridimensionare partizioni delicatissime a rischio di buttare l'hard disk e dire addio al contenuto. 9 gennaio. KB5034123. Impossibilità di installare l'aggiornamento apparentemente senza ragioni ed una serie di stack di errori tra i più disparati. Mi fermo con i problemi giunti alla ribalta delle coronache nei primi due mesi dell'anno, anche se dovrei citare quelli sorti dopo l'aggiornamento 16 ottobre 2023 Windows 11 23 H2, noto come KB5031356. Può risultare scoraggiante scoprire, grazie allo studio del team Project Zero di Google che si occupa di sicurezza, un altro dato. Microsoft, nel triennio 2019-2021, è seconda solo ad Apple per la quantità di bug importanti riscontrati, ma soprattutto è stata necessaria una media di circa 83 giorni per porvi rimedio, ed in questo è seconda solo ad Oracle. Pare inoltre che una cospicua fetta dei problemi non trovi soluzione neppure dopo tre mesi dalla sua scoperta. Microsoft non può obbligare gli utenti di Windows 10 a passare a Windows 11, anche perché la versione 10 è ufficialmente supportata fino a ottobre 2025. Ciò nonostante da tempo molti utenti ricevono pop-up che li invita caldamente ad affrontare il passaggio. In una nota ufficiale si legge, a partire dall'aggiornamento di sicurezza di aprile 2024, gli utenti Windows che lavorano su PC aziendali non gestiti con domini cloud o aggiunti a domini, riceveranno messaggi di invito ad aggiornare gratuitamente a Windows 11. Questo fa parte della nostra missione di contribuire a mantenere la tua organizzazione protetta e produttiva. Dal 31 gennaio sono state rimosse dallo store e fermate le vendite di licenze ufficiali di Windows 10 Home e Pro. Le rispettive versioni retail di Windows 11 sono acquistabili per 145 e 259 euro. Come se non bastasse a gettare benzina sul fuoco del colosso fuori controllo, ci si mette pure Elon Musk. Ha appena acquistato un nuovo PC equipaggiato con Windows 11, desideroso di valutare l'implementazione in copilot dell'IA basata su ChatGPT di cui è uno dei padri. Malgrado il genio, come tanti comuni mortali, sperimenta che la configurazione iniziale pretende la connessione ad un account Microsoft e quindi ricorre al suo social per un messaggio assai indispettito. Ho appena acquistato un nuovo PC portatile e non mi permetterà di usarlo a meno che non crei un account Microsoft, il che significa anche dare alla loro intelligenza artificiale l'accesso al mio computer. Questo è un vero casino. In passato c'era un'opzione per saltare l'accesso o la creazione di un account Microsoft. Lo vedete anche voi? Come altri utenti, abituati ad arrabbattarsi per trovare un modo per raggirare gli ostacoli di Microsoft all'utilizzo del proprio computer, anche Musk scopre il trucco per avviare Windows senza un account e allora si rivolge direttamente all'amministratore delegato di Microsoft Satya canadella. Satya, non intendo essere una seccatura, ma consenti alle persone che configurano un nuovo PC Windows di saltare la creazione di un account Microsoft. Questa opzione scompare se il computer è connesso al wifi. Inoltre, anche se vuoi iscriverti, non ti consentirà di utilizzare un indirizzo email di lavoro e io ho solo indirizzi email di lavoro. Penso anche agli utenti che hanno acquistato un PC con Windows 10 che Microsoft promise sarebbe stato l'unico ed ultimo sistema operativo ed avrebbe seguito un ciclo di sviluppo continuo, come Archie Linux fa da oltre 20 anni. Insomma, acquisti un PC con il sistema Microsoft definitivo, dotato di caratteristiche tecniche più che dignitose e poco dopo viene commercializzato Windows 11. Se già parte una smorfia di fastidio, immagino il disappunto di un utente che scopre che il PC non possiede requisiti per beneficiare del nuovo sistema operativo e che in pratica è già inadeguato agli sviluppi futuri di Microsoft. Quando si dice obsolescenza programmata? Lo so, anche in questo caso un utente Microsoft è abituato a non fidarsi del proprio sistema operativo e cercando soluzioni, raramente alla portata dell'utente comune poi le trova. Eppure tanti affezionati utenti smaniano in attesa delle novità e di nuove versioni del sistema operativo. Alcuni sono rimasti delusi scoprendo che Windows 12, di cui si vocifera da quasi un anno, per il 2024 non andrà atteso. Alcune indiscrezioni e concept di design sul suo possibile aspetto avevano già fatto sbavare diversi utenti appassionati utilizzatori del sistema Microsoft. Chi li ha visti ed iOS ne conosce parecchi aveva già notato una spudorata clonazione dell'ambiente desktop di Deepin Linux disponibile da anni. Avresti mai detto che gli USA copiano i cinesi? Beh dai, sai già dove voglio arrivare se hai visto come si chiamano il blog e il mio canale YouTube. È evidente che sono di parte, ma finora ho riportato fatti reali insieme alle mie opinioni. Del resto io non sono in servizio pubblico e non sono tenuto all'imparzialità. Ma lasciamo pure da parte le mie opinioni di utente che ha abbandonato Microsoft e qualunque software non open source da tanti anni. Prendiamo i freddi e crudi dati di questi fenomeni. Da StatCounter, il punto di riferimento per le statistiche sull'utilizzo delle tecnologie. L'autorevole sito web ci mostra che l'utilizzo di Windows 10 è persino in crescita a partire da gennaio di quest'anno e, malgrado gli sforzi di Microsoft, supera il 67% dei PC Windows in circolazione. Il sito ci dimostra che Windows 11 è presente in meno di un PC su tre tra quelli che montano un OS di Redmond. C'è persino una disperata e temo inconsapevole fetta di utenti che ancora adopera Windows 7 chissà se per attività online come shopping o home banking. Sistema operativo per molti aspetti valido, ma morto e sepolto da anni, in balia di giganteschi problemi di sicurezza di dominio pubblico che nessuno più risolve. E quindi cosa fare? Cosa pensi che ti dica? Ma restiamo ancora nella consultazione dei crudi dati. Guardiamo i dati su Linux di StatCounter. Non sono riferiti all'impiego su server, dove da oltre vent'anni il pinguino ha stracciato ogni concorrenza diventando fulcro di Internet, server di posta e cloud computing. Non sono nemmeno riferiti a dispositivi mobili dove Android, versione proprietaria modificata di Linux, la fa da padrone. Sono riferiti a PC da scrivania o portatili. Workstation che lavorano per un utente alla volta, dotati di un bell'aspetto, finestre, tanti programmi e ormai solo di rado uno schermo nero con testo bianco. Ebbene, negli ultimi tre anni il numero dei PC di questo tipo equipaggiati con Linux è raddoppiato. E da novembre 2023 a febbraio lo sta facendo a passo di carica. Così pochi, sento domandarmi spesso, se fosse un sistema valido tutti lo utilizzerebbero. Il fatto è che far funzionare Wi-Fi o una stampante è un'impresa da guru informatico. E poi Office, Photoshop e AutoCAD non funzionano con Linux. Chi lo dice non si rende forse conto di cosa significa competere con i colossi da miliardi di capitalizzazione. E nemmeno la potenza commerciale richiesta per far finire sugli scaffali di grandi catene o negozi specializzati alcuni ottimi computer all'ultimo gredo che tantissime solide realtà commercializzano con Linux preinstallato. Solo Google, in parte, ci riesce con i suoi Chromebook basati su Linux. I problemi hardware sono rari o non venderebbero computer fissi, mini PC e laptop su base intelle AMD con Radeon Nvidia con Linux preinstallato. Sono solo alcuni, per fortuna pochi, produttori di hardware che cifrano i propri driver Wi-Fi e Bluetooth, li rilasciano solo per Windows e non permettono di replicarli e farli funzionare con Linux. Tutte le marche di stampanti prevedono driver per Linux e spesso basta collegarle senza fare nulla per stampare subito. Infine c'è il fenomeno del vendor lock-in, quanto ai super software citati. Dai un'occhiata alla definizione su wikipedia, oppure definiamo semplicemente il concetto come abuso di posizione dominante, se non proprio un monopolio. Non è colpa di Linux se tali programmi non sono installabili. Perché se non è semplice disinteresse nei confronti di chi cerca alternative per sottrarsi a logiche folli, si tratta proprio di uno specifico intento di non renderle compatibili. Se sei stanco delle limitazioni imposte da altri sistemi operativi o se vuoi semplicemente esplorare qualcosa di nuovo, ti invito a dare a Linux una possibilità. Potresti sorprenderti di quanto possa essere adatto alle tue esigenze. Linux non è riservato ad utenti esperti o appassionati di informatica, ma è diventato sempre più accessibile e user-friendly nel corso degli ultimi anni. Da dove puoi partire? Da alcuni miei video o articoli blog, tra cui quelli sul confronto tra Windows 10 e Linux Mint, che in molti hanno già visto. In quello come orientarsi tra le distribuzioni Linux se credi che esista solo Ubuntu. Puoi consultare la mia panoramica delle distribuzioni Linux per principianti 2023. Ma il meglio che puoi fare è mettere il blog tra i preferiti del browser ed iscriverti al canale YouTube attivando le notifiche perché i prossimi articoli e video conterranno nuovi consigli su come scegliere il tuo primo sistema operativo Linux per principianti e perché rinnoverò proposte specifiche di sistemi operativi basati su Linux che ritengo essere i migliori per il 2024. Intanto grazie per la visione e a presto.